allora buongiorno buongiorno la dottoressa sta poco bene ma ci raggiungerà nel prossimo webinar chissà se non ci lascio definitivamente ci raggiungerà nel prossimo scherziamo ma insomma ciao federica e rimettiti e rimettiti presto è stata anche lei vittima delle varie insomma influenze che sono in giro come notizie della della giornata in realtà non ci sono grandi grandi notizie quindi oggi insomma vi parlo un po più di novità normativa e cerco di rispondere alle domande che mi hanno posto un po di un po di persone prima cosa sul proprio sito del ripam formes hanno pubblicato le modalità di svolgimento della prova orale in merito al concorso del ministero del turismo quindi concorso già avviato hanno già svolto la prova scritta e adesso insomma sono arrivati alla prova orale lo leggo questo non tanto ma siccome ogni tanto ci sono delle persone che mi chiedono come poi si svolga concretamente una prova orale devo dire che insomma il canovaccio che è stato indicato sul sito del ripam e poi ricalca quello che fanno anche molte altre amministrazioni ovvero cosa hanno scritto in merito a questo concorso che la prova orale verte sulle materie del bando di concorso per la prova scritta e questa è una cosa insomma frequente poi a volte nella prova orale aggiungono anche altre materie in più rispetto alla prova scritta in questo caso insomma indicano solamente che verte sulle materie previste per la prova scritta che la commissione predispone prima dall'inizio delle prove orali i quesiti che dovranno essere estratti dai candidati nel corso della giornata ogni candidato estrae tre quesiti tra quelli predisposti dalla commissione estrae proprio insomma un po' come se fosse proprio un'estrazione sostanzialmente risponderà a un quesito poi ancora per la verifica delle abilità informatiche leggerà e tradurrà un breve testo per la verifica dalle conoscenze della lingua inglese sulla lingua inglese le commissioni insomma ogni commissione si regola in modo autonomo spesso la modalità per la verifica dalle conoscenze dell'inglese è proprio questa della lettura e traduzione di un testo in lingua inglese in altri casi c'è un colloquio comunque il membro aggiunto della commissione diciamo l'esperto di lingua inglese potrebbe anche impostarlo diversamente solamente a modo di colloquio in questo caso invece proprio e questa è una modalità che viene adottata spesso l'inglese viene verificato con la lettura e poi traduzione di un testo in lingua inglese e poi va bene le altre cose sono sostanzialmente i punteggi che sono praticamente quelli che vengono adottati anche in altre sessioni quindi a chi mi chiede insomma poi come si svolge l'orale spesso proprio si svolge con le modalità che sono state indicate per questo concorso estrazione di alcune domande in questo caso di tre domande per l'informatica mi chiedete ma come viene verificata vengono verificate le competenze dell'informatica anche qui dipende dal dall'orientamento della della commissione in alcuni in alcuni casi sono proprio delle anche proprio come dire prove pratiche al computer cioè di viene assegnato un compito da svolgere proprio di mettono davanti una postazione informatica da svolgere al computer in altri casi posso possono essere anche solamente domande di diciamo tipo orale va bene detto questo andiamo un po di notizie sulla gazzetta ufficiale e vi dicevo sia quella di ieri sia quella della settimana scorsa di venerdì scorso non non ci sono notizie dei grandi concorsi che grandi concorsi ci saranno e fra l'altro tra un po' vi darò anche qualche ulteriore dettaglio in merito ci sono però tanti concorsi di di enti locali e che come vi dico spesso non snobbateli a prescindere anche perché comunque potrebbero rappresentare ehm una buona occasione di allenamento non fosse altro per per questo in vista magari di di concorsi a cui eh ambite eh maggiormente e di concorsi sulla gazzetta ufficiale insomma ne troverete tanti eh sia per ad esempio questo della città metropolitana di Milano categoria C1 eh riservato alle categorie protette quando mi chiedete ci sono concorsi per le categorie protette dovete avere voi proprio la pazienza di vedere ogni settimana il martedì il venerdì sera la gazzetta ufficiale perché ci sono davvero tanti concorsi anche solo per pochi posti ma ogni settimana stanno pubblicando i vari enti molti eh molti concorsi ci sono concorsi per amministrativi per tecnici eh per il personale sanitario per i ricercatori sia per concorsi per a cui si può accedere con il diploma sia concorsi a cui si può accedere eh con la ehm eh con la laura sia concorsi per dirigenti insomma dovete avere voi pazienza non citarli tutti quanti sarebbe davvero lungo e magari eh vi fargli perdere del tempo inutilmente eh detto detto questo ehm sulla gazzetta sono usciti anche un paio di diari che erano attesi da da un po' di di persone o quantomeno di rinvii in realtà di diari ehm ehm vi segnalo in modo particolare questo dalla corte dei conti in merito alla prova preselettiva del concorso per la copertura di 60 posti di personale amministrativo e ehm ehm nella nell'avviso si dice che le comunicazioni saranno fornite il quattordici marzo duemilaventitré sulla gazzetta ufficiale eh concorsi numero eh numero venti oppure ancora il concorso del eh dell'Inps per ehm la copertura dei trentotto posti di professionista eh dell'area tecnico edilizia in questo caso si precisa che il diario sarà fornito il ventuno il diario della prova scritta il ventuno febbraio duemilaventitré quindi in caso qualcuno fossero sfuggite queste notizie considerate questi due eh diari. Eh dimostro adesso alcuni estratti del piano trennale Formez il piano trennale duemilaventitré duemilaventicinque dove c'è qualche indicazione sulla sulla occupazione in merito eh ormai insomma sapete che il Formez si occupa di tante procedure selettive e ci sono alcune indicazioni ehm che mi piace leggere insieme. In merito ai fabbisogni istituzionali delle pubbliche amministrazioni il Formez fornisce questi dati che a qualcuno insomma potrebbero eh tornare utili. Il ricambio generazionale è stato di conseguenza lento e parziale ad eccezione del comparto della scuola. A gennaio duemilaventuno gennaio duemilaventuno risultavano in servizio tre virgola due milioni di dipendenti pubblici cioè lo zero virgola novanta sette per cento in meno rispetto all'anno precedente. Il minimo storico di questo comparto. Poi nel duemilaventidue insomma ci sono state molte assunzioni comunque siamo continuiamo ad essere intorno a questi livelli di personale intorno ai tre virgola due milioni di dipendenti pubblici. La sostituzione del personale in servizio è stata nel tempo pari a uno solo nuovo assunto a fronte di tre cessioni nelle amministrazioni centrali ed è un assunto ogni due eh cessazioni nelle amministrazioni locali. Oggi l'età media dei dipendenti pubblici è superiori ai cinquant'anni questo è il dato in modo particolare del duemiladiciannove il sedici virgola tre per cento a più di sessant'anni mentre quelli eh che hanno meno di trent'anni sono solamente il quattro virgola due eh per cento. È interessante in modo particolare questo sedici virgola tre per cento con più di sessant'anni perché queste sono persone che comunque andranno in pensione ehm nei prossimi eh nei prossimi eh nei prossimi anni eh nei prossimi due tre quattro anni cinque anni di di tempo insomma molte di queste persone andranno in pensione. Sedici virgola tre per cento significa in grosso modo eh un un sesto dei dipendenti quindi un sesto di tre milioni quando eh vi vi dicono eh ci saranno concorsi per l'assunzione nei prossimi anni di cinquecentomila, seicentomila, settecentomila dipendenti si fa riferimento anche a questo. Cioè si fa riferimento proprio al fatto che come calcolano questo dato ehm valutando quante persone l'età grafica dei dipendenti pubblici e quindi stimando che alcuni di questi chi ha sessantadue, sessantadere, sessantatquattro anni, chi è un po' più tardi comunque molte di queste insomma nell'arco di alcuni anni andranno comunque sia in eh in pensione eh dovranno andare in pensione perché poi ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare e quindi ehm eh diciamo questo sedici per cento significa un sesto dei tre degli oltre tre milioni eh di persone eh di dipendenti pubblici un sesto di oltre tre milioni significa oltre cinquecentomila eh persone che dovranno essere eh sostituite nei prossimi anni. Però attenzione quando me lo chiedete eh ma professore ci sono tutte queste assunzioni in programma? Sì considerate che visto che eh questo spazio viene eseguito in modo particolare da ehm persone interessate a profili amministrativi o qualcuno anche a profili tecnici considerate che quando si parla di oltre cinque cinquecentomila assunzioni molte di queste oltre la metà di queste sono assunzioni eh che riguardano il settore scuola e il eh le forze settore scuola, forze armate e il settore sanitario. Quindi poi in realtà proprio per i profili amministrativi o per profili tecnici, informatici, ingegneri, architetti eccetera statistici e via discorrendo poi le 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 assunzioni previste nei prossimi cinque anni sono molte ma molte di meno rispetto a cinquecentomila probabilmente anche meno di eh duecentomila. Il dato proprio ufficiale sul bilancio sulla sulla distribuzione poi delle delle assunzioni che ci saranno è è decisamente insomma più più ristretto. Oltre mh diciamo anche duecentomila in cinque anni significa mediamente eh intorno alle quarantamila eh assunzioni per personale amministrativo e tecnico. Quindi eh capite come in questi in questi termini poi eh il dato eh diventa molto meno eclatante di quanto poi eh spesso viene viene presentato su su alcuni mezzi di di informazione. I dati bisogna sempre saperli leggere in modo in modo opportuno. Ehm eh si dice anche la copertura del del turnover e delle carenze di personale che si sono tradotte nel corso degli ultimi anni può rappresentare una grande opportunità se gestito consapevolmente non solo per ringiovanire il volto dell'APA ma anche per ridefinire le competenze quindi ancora una volta viene ripreso il dato delle competenze in termini di tecniche e soft skills e favorire l'aggiornamento dei profili professionali con particolare riferimento ai tecnici quello che io vi dico da eh tanto eh e agli informatici. Cioè eh nell'ambito di quelle assunzioni che vi ho detto saranno più o meno quarantamila, poco più, poco meno ogni anno per personale amministrativo e personale tecnico considerate che si cercherà di dare spazio maggiore rispetto a quanto fatto in passato proprio ai profili eh tecnici di cui le amministrazioni sono maggiormente carente. E quindi per gli amministrativi nei prossimi anni è vero che si continuerà ad assumere, che le amministrazioni continueranno ad assumere ancora per per un po' ancora per due, tre anni, quattro anni insomma ci saranno ancora tante possibilità di di eh essere assunti nell'ambito della pubblica amministrazione ehm però ehm con questa redistribuzione dei posti più a vantaggio eh dei tecnici rispetto e degli informatici rispetto a quanto fatto negli scorsi anni, negli anni eh precedenti. Eh in questo contesto si innesta l'ampio quadro di riforme del lavoro pubblico che investe tra gli altri aspetti va bene le modalità di selezione, valutazione e carriera dei dipendenti pubblici che si saltano a loro volta alla formazione, alla eccetera. Va bene, questo eh più o meno ne abbiamo anche ehm parlato varie mh varie volte e qui dice senza trascurare anche gli aspetti motivazionali e valoriali tipici del civil service. Va bene. Poi ancora in questo documento si dice in coerenza con la formulazione delle come modificato eccetera ha emanato a settembre 2022 le linee di indirizzo per affiancare le amministrazioni impegnante nel rinnovamento della gestione in chiave scadere rigolando lo strumento di progettazione. Va bene, è questo lo sappiamo anche cioè qui parla poi del del Piauce, del fatto che comunque si sta dando ampio spazio a questo nuovo eh piano per ehm proprio la gestione e la valorizzazione delle risorse umane nel nell'ambito dei quali poi è ehm è stato assorbito il piano triennale dei fabbisogni del eh del personale. Ehm rispetto a questa cosa eh le procedure concorsuali per gestire il ricambio nonostante gli sforzi effettuati questo è un passaggio che mi piace qui mh viene sottolineato come rispetto alle riforme che ci sono state insomma negli ultimi mesi o negli ultimi due anni in modo particolare eh le procedure concorsuali per gestire il ricambio all'interno dell'APA nonostante gli sforzi effettuati non sono ancora adeguate e tempestive come sarebbe necessario nonostante la forte spinta alla digitalizzazione che si è avuta negli ultimi anni che è uno dei temi su cui io varie volte sono intervenuto quando eh c'erano eh amministratori che dicevano eh grazie alla digitalizzazione eh la il tempo medio di assunzione si è drasticamente eh drasticamente diminuito io vi devo dire insomma ma lo avete visto anche voi questa 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 riduzione drastica francamente non l'ho percepito magari sfuggono a me dei dati però in questo in questo passaggio di questa relazione eh sembrano un po' riprendere questo in realtà questo tema che è una di quelle cose che eh insomma io ho fatto presente in tanti in tanti webinar oltre che sulle modalità di svolgimento delle prove sui tempi minimi necessari per il problema dell'attenzione anche sulle modalità di disancorare le prove concorsuali dalla mera valutazione della conoscenza in chiave nozionistica e di puntare sulla valorizzazione delle capacità tecniche e delle attività individuali quindi qui riprendono il fatto che la transizione che si sta eh venendo a determinare negli ultimi anni anche nelle procedure di selezione è quella di dare anche spazio a eh la valutazione non solo delle conoscenze eh prettamente nozionistiche sono facendo già varie amministrazioni questo che significa ad esempio questo fa riferimento a eh la valutazione anche di attitudini che possono essere ad esempio le attitudini logiche ci sono amministrazioni tipo il format eh nei concorsi che sta bandendo inserisce sempre o quasi sempre insomma poi ovviamente dipende anche degli accordi che ci sono con le singole amministrazioni però inserisce spesso anche ehm eh eh quesiti di logica tanto per eh andare nel dettaglio oppure ancora eh si fa riferimento anche al capitolo del soft skill tipo mh in molti degli ultimi bandi c'erano anche delle ehm domande sulla valutazione delle soft skill e alcuni miei corsisti mi dicono che anche al di là dei concorsi formats sono capitate anche altre tipologie di concorsi eh dove addirittura a volte la valutazione delle soft skill avviene anche in sede di provorale con domande effettuate anche in sede di provorale. Eh infine la pubblica amministrazione deve tornare ad essere attrattiva per i giovani talenti questa è una cosa insomma che eh si dice sempre tutti gli anni qualunque ministro qualunque responsabile dei vari organismi mh lo 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 dice insomma si cerca si sta cercando di renderla più attrattiva per i giovani talenti perché è in grado di offrire non solo un posto fisso ma la possibilità concreta di far parte di un progetto ambizioso di cambiamento del paese e anche da questo punto di vista le modalità con le quali avviene la selezione possono essere dirimenti. Su questo tema però insomma mh il secondo me il punto carente è che per attrarre i giovani più brillanti i giovani talenti eh oltre che mh far sì che ci siano delle condizioni di lavoro ottimali eh bisogna anche lavorare poi eh sulla remunerazione insomma se se io giovane talento so che un privato so che all'estero mi pagano molto di più il doppio il triplo rispetto a quanto potrei guadagnare nella pubblica amministrazione probabilmente i giovani talenti non avranno poi tutta questa voglia anzi di lavorare nella pubblica amministrazione e e questo è uno dei temi sui quali ehm secondo me anche il legislatore dovrebbe puntare maggiormente eh eh l'attenzione. Ehm poi nel nuovo regolamento le eh si prevede ehm cioè il il DPR che poi ha aggiornato il eh vecchio DPR 487 del 94 eh dice insomma sono state introdotte delle novità tipo il fatto che la digitalizzazione delle procedure concorsuali in tutte le fasi anche facendo leva sul portale INPA eh che a partire da novembre del duemilaventidue dovrebbe essere utilizzato da tutte le amministrazioni in realtà da tutte le amministrazioni centrali per quelle locali l'obbligo poi scatta tra qualche eh tra qualche mese. A proposito di questo passaggio e poi ritorno sopra eh mi piace anche mostrarvi uno stralcio del eh ministro Zangherillo eh o quantomeno pubblicato adesso non so se sono dichiarazioni di Zangherillo ehm pubblicato ehm qualche giorno fa il diciannove gennaio duemilaventidre ehm per perché mi dà anche lo spunto per rispondere a eh la domanda che mi è giunta da un eh uno di voi adesso non ricordo esattamente insomma chi me l'ha me l'ha posta che mi diceva ma oggi si può evitare un'amministrazione pubblica può evitare di pubblicare i eh bandi di concorso eh il il bando di concorso che eh si appresta a eh organizzare ehm può evitare di pubblicarlo sulla gazzetta ufficiale? Beh eh vi rispondo proprio con questo posto con questo articolo pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui si dice su Impa un nuovo concorso della Banca d'Italia e poi leggendo l'articolo ehm si dice addio gazzetta con la selezione per il Ministero della Giustizia per la prima volta un bando solo sul portale. Quindi questo lo dice direttamente il Dipartimento della Funzione Pubblica e e vi do dire leggendo la normativa oggi è diventato è diventato possibile cioè le amministrazioni pubbliche potrebbero anche non pubblicare i propri bandi sulla gazzetta ufficiale ehm e pubblicarli esclusivamente sul eh portale Impa. Il primo eh ente che lo ha fatto almeno un secondo quanto riportato in questo articolo è il Ministero della Giustizia con il concorso per settecentonovantuno posti pubblicato eh alcuni alcuni giorni fa. Ritornando alla relazione del Formez ancora qualche dato mi piaceva fornire ehm allora fin qui eh dicevo poi le altre novità va bene sono novità che sulle quali bene o male ci siamo soffermati varie eh volte cioè le le norme che sono state introdotte per tutelare la parità di eh di genere eh alcune novità anche nei titoli di preferenza rispetto a quanto avveniva in passato una maggiore tutela per la maternità ehm e delle novità anche in merito alla composizione delle commissioni però questo credo che ehm a parte il fatto che abbiamo già parlato mh a molti interesserà eh meno. Poi ehm nella relazione si parla insomma delle varie attività nel dettaglio di cui si occupa il Formez tra queste il punto tre è quello che interessa maggiormente alle persone che seguono ehm questo webinar cioè quello relativo al eh reclutamento e ehm in merito a questo dato mi piace poi eh mostrarvi alcuni dati di dettaglio che sono proposti oltre eh in merito oltre alle diciamo selezioni che sono già attive e che sono state partite e che eh che sono partite e che sono state affilate alla Formez ma ce ne sono altre che sono in via di partenza o che sono state approvate eh da eh da poco tipo nello scorso webinar se ricordate vi ho parlato eh del concorso ehm del ministero del dell'interno per l'accesso alla carriera prefettizia l'ultimo bando quello da centottanta posti risalente alla duemilaventuno che sarà gestito dalla Formez e nel precedente webinar chi è interessato ha fornito dei eh dei dettagli. Eh altri concorsi che gestirà il Formez sono quello del ministero della cultura per cinquecento diciotto posti eh da funzionario poi ancora ministero della difesa per quindici eh dirigenti eh di alcuni so che insomma già sapete di altri magari ancora non eh non sapete bene poi ancora quello dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale ci sono sette procedure concorsuali per sessanta unità di personale diplomato in vari eh in vari profili poi ancora Regione Calabria in merito alla Regione Calabria questo concorso che non ricordo nemmeno se è stato già bandito o comunque sarà bandito a breve nel caso in cui non sia stato bandito per 89 posti nel ruolo nel profilo di istruttore direttivo amministrativo o contabile quindi sarà un concorso che sarà comunque gestito dal Formez anche Regione Piemonte ehm c'è questo insomma concorso per l'attività il diciamo il Formez si occuperà della gestione delle prove per eh le cinquantotto unità di personale a tempo pieno e indeterminato di categoria C e eh D e poi in modo interessante anche se non vengono forniti ulteriori dettagli c'è questo concorso a cui accederanno varie amministrazioni eh varie amministrazioni ehm fra l'altro con un costo ingente quindi mi fa pensare ad una eh selezione che gestirà il Formez con tante amministrazioni che accedono tipo un concorso multiministero però al momento non ho ulteriori dettagli appena avrò ulteriori dettagli insomma eh proverò a fornirli. Ehm detto questo allora rispondo colgo l'occasione in questo webinar visto che oggi non ci sono notizie eclatanti per rispondere a un po' di domande che mi chiedevano mh dettagli sulla in merito alle assunzioni pubbliche sulla normativa vigente. Allora in merito alle assunzioni pubbliche ehm la normativa vigente a cui dovete fare il riferimento oggi è il decreto legge trentattile del duemilaventidue che poi è stato anche eh recepito e ha ha portato delle modifiche nel Tupi in alcuni articoli del Tupi cioè del decreto legislativo cento il famoso centosessantacinque del duemilavuno perché insomma studia concorsi è una è uno degli argomenti che deve conoscere in merito alle assunzioni pubbliche sulla normativa vigente. eh che deve conoscere meglio e e molte delle novità che sono state introdotte con questo decreto poi sono state recepite nel DPR che ha eh aggiornato il DPR 487 del eh del 94. Di questo ehm in questo decreto che io vi consiglio di leggere anche perché insomma potrebbero esserci dalle domande specifiche eh anche in varie sedi ehm con ehm diciamo concorsuali quindi è è importante leggerlo perché insomma capireste meglio sia mh alcuni alcune cose che stanno accadendo nel mondo dei concorsi sia perché vi può essere utile eh proprio in termini di preparazione eh di preparazione concorsuale. Eh e questo diciamo il decreto che ha introdotto la piattaforma ad esempio unica di reclutamento per centralizzare le ehm procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni eh ovvero il sito impa di cui a cui poc'anzi ho fatto riferimento impa.gov.it. Poi eh che altro eh c'è di interessante? Ci sono tante cose interessanti. Ehm la riforma delle procedure di reclutamento nelle pubbliche eh amministrazioni. A tale proposito si dice che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale ad esempio per i funzionari non solo per i funzionari anche per altri livelli quelli tipo gli assistenti eccetera ehm sono state introdotte delle eh modifiche importanti in modo particolare l'espletamento cioè oggi considerate che i concorsi quando mi dite ma perché tante prove eccetera perché è previsto proprio da questo decreto quello del ehm del duemilaventidue cioè in cui si dice che l'espletamento è previsto che tutti i concorsi debbano prevedere tutti i concorsi devono prevedere l'espletamento di almeno una prova scritta anche a contenuto teorico pratico e di una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Non specificano l'inglese però in generale dicono di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze vedete come già in questo decreto si calca la mano sull'aspetto delle competenze intese come insieme di conoscenze di capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego e per il profilo per il profilo richiesto. Avrete visto come da alcuni mesi nei bandi di concorso nel nell'articolo iniziali vengono proprio indicate delle vengono fornite ulteriori indicazioni sui profili da assumere non dicono solo vogliamo assumere eh cinque posti da funzionario amministrativo ma specificano anche quali sono eh come dire i compiti le le manzioni a cui devono eh devono che devono prestare le persone che saranno assunti eccetera. Eh il numero delle prove eh d'esame le relative modalità di svolgimento e correzione devono eh contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze ancora una volta questo termine competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientate ai principi espressi nel comma due poi l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ormai insomma lo eh lo eh sapete perfettamente le prove d'esame possono essere precedute attenzione quando mi dite ma mh ma se in passato per un po' di tempo non ci sono state prove preselettive adesso è legittimo che ci siano delle prove preselettive? Sì lo ha reintrodotto diciamo questa in realtà non era mai scomparsa dalla ehm dalla normativa italiana però è come dire è stato ribadito che le amministrazioni possono procedere con forme di preselezione ehm è proprio questa è la lettera C non ricordo di che articolo credo l'articolo eh forse l'articolo tre di questo decreto legislativo che dice eh le prove d'esame possono essere precedute da forme di eh preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze eh indicate in precedenza. I contenuti di ciascuna prova eh devono essere disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dallo svolgimento delle procedure le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi al concorso prevedendo che l'assunzione dei profili specializzati oltre alle quindi per l'assunzione di profili specializzati oltre alle competenze siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere anche nella predisposizione delle prove ehm le commissioni che le le commissioni siano integrate da spelti in valutazione delle competenze e selezione del personale quindi ehm anche qui alcuni mi hanno detto ma nella commissione hanno nominato uno psicologo e normale sì eh insomma si può tranquillamente eh fare è stato ribadito da proprio questo decreto eh legge. In più si dice che per i profili qualificati dalle amministrazioni in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica è prevista o le amministrazioni devono prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlate alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini delle ammissioni alle successive fasi concorsoali. Qui mi fermo perché questo passaggio è importante perché molti mi hanno detto ma è legittimo nel caso in cui si decida di farlo che ad esempio l'agenzia delle entrate per il prossimo concorso per funzionari amministrativi predisponga una fase preselettiva per titoli? Beh considerate che i profili che intende assumere l'agenzia delle entrate potrebbero essere qualificati come profili ad ehm eh elevata specializzazione tecnica tanto che se avete notato nell'avviso ehm che ha pubblicato l'agenzia delle entrate a settembre eh scorso quindi alcuni mesi fa non parlava ad esempio per i funzionari eh mentre in passato si parlava di funzionari amministrativi tributari in questo in quel caso parla solamente di funzionari tributari quindi quasi a voler rimarcare come dire un ruolo da funzionare un po' più specialistico un po' più non un qualunque tipo di funzionario amministrativo ma eh uno funzionario amministrativo che abbia delle competenze molto più specifiche molto più eh molto più tecniche quindi eh in tali termini può anche darsi diciamo che le amministrazioni se eh giustificano l'assunzione di personale con non uno qualunque funzionario amministrativo ma un funzionario come dire con delle competenze molto più specifiche beh in quel caso è possibile che ci sia una fase preselettiva per eh per titoli che i titoli e l'eventuale esperienza professionale inclusi i titoli di servizio possono concorrere in misura non superiore a un terzo alla formazione del punteggio e va bene e questo lo sapete eh va bene questo mi sembra che non dica nulla di poi qui si parla delle commissioni esaminitrici che possono essere suddivise in sottocommissioni ma lo sapete lo sapete bene cos'altro c'era di interessante in questo eh diciamo vediamo qui ehm diciamo che in questo eh davvero in questo in questo decreto legge ci sono molte novità eh che poi dovrebbero regolare la gestione dei concorsi nei prossimi anni a meno che non ritornino ad intervenire che l'attuale governo non eh intervenga nuovamente sulla questione ma parrebbe che non eh non voglia farlo si parla ad esempio dell'aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica che è una di quelle cose che interessa maggiormente ai eh dipendenti già delle amministrazioni eh pubbliche eh quello che vi dicevo prima sul rafforzamento a favore dell'equilibrio di genere quindi politiche ehm di questo eh di questo tipo ehm ci sono anche delle informazioni quindi le sottolineo solamente per chi insomma sia interessato per chi è già dipendente anche dalla pubblica amministrazione sulla mobilità sulla mobilità orizzontale e eh eccetera quindi eh ci sono una serie di norme che ripeto io vi consiglio chi è interessato leggetevi questo questo decreto legge che eh vi aiuterà decreto legge del 30 aprile 2022 vi aiuterà insomma a capire un po' di cose eh che che eh regoleranno lo svolgimento dei concorsi giusto per sintetizzare quindi i concorsi nei prossimi anni quando mi dite ma c'è la possibilità che tornino ad esserci concorsi con prova unica vi devo dire ad oggi anche in virtù di questo decreto legge almeno per i profili a tempo indeterminato almeno per i profili a tempo indeterminato ehm questa previsione non non c'è perché eh con la pubblicazione di questo decreto e poi con altri atti che ci sono stati tipo il l'aggiornamento del DPR 487 del 94 eh i concorsi per i profili eh non dirigenziali quindi quello da funzionario quello da assistente eccetera devono prevedere almeno una prova scritta devono prevedere poi la prova orale possono prevedere una fase di preselezione e per i profili eh che sono classificati come profili specialistici la preselezione potrebbe essere eh una preselezione per titoli quindi questo eh come sintesi spero insomma di aver chiarito questo punto eh anche in merito alle domande che mi avete fatto ad esempio in virtù del prossimo concorso dell'agenzia delle entrate se è possibile o meno eh che questo avvenga in teoria potrebbe essere possibile dipende poi da come l'agenzia delle entrate ehm impostere il bando sul quale pare che stiano già lavorando da da un po' di tempo. Ancora ehm sull'ufficio del processo molti insomma mi hanno chiesto e eh di tanto in tanto mi arrivano queste domande sull'ufficio del processo io dico visto che ci sono state voci sul fatto che chi già sta lavorando in un ufficio del processo possa essere stabilizzato io guardate devo rivedere questa cosa e ve lo mostro anche con un atto normativo ehm sempre il decreto legge che vi ho mostrato prima quindi il decreto legge del 30 aprile 2022 il numero 36 ha apportato anche delle modifiche alla a questo ulteriore decreto legge che è importante eh cioè il decreto legge del 9 giugno 2021 il numero 80 del 9 giugno 2021 in cui all'articolo 11 si parlava proprio degli addetti eh all'ufficio per il processo e si diceva al fine di supportare le linee di progetto eccetera eccetera insomma tutto quello che si è detto perché l'ufficio del processo per ehm eh per eh consentire una uno smaltimento più rapido di una serie di pratiche pendenti eh del Ministero della Giustizia. Si dice che il Ministero della Giustizia richiede alla Commissione Ripam che può avvalersi di forme ZPA di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024 in due scaglioni di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti dell'ufficio per il processo con contratto di lavoro a tempo determinato e vi dicevo il decreto sempre questo del 36 dal 30 aprile 2022 ha portato questa modifica che prima non c'era dove è stato ribadito che non è rinnovabile. Quindi eh chi eh ha partecipato al primo bando dell'ufficio del processo a meno che non mettano mano a questa norma e non ci sia un decreto certamente il governo può farlo ehm a meno che non mettano mano a questa norma ad oggi la normativa attuale io vi devo dire quello che prevede la normativa attuale quello che poi potrà accadere nel futuro non ho la sfera di cristallo quello dovete chiederlo ai politici ma ad oggi dal quadro normativo che c'è è eh scritto proprio in modo chiaro senza possibilità di equivoco che i contratti relativi alla agli addetti dell'ufficio per il processo sono a tempo determinato e non sono rinnovabili. Quindi hm se poi mi chiedete se questo verrà modificato io ripeto non ve lo posso dire. So che ci sono delle persone sindacati o che ne so forze politiche che si sono espresse che hanno manifestato un'apertura però io più di tanto non posso dire. Eh il primo bando era quello che è stato già espletato hm aveva una durata massima di due anni e sette mesi. Il prossimo bando che è possibile che ci sia già verso la fine del duemila ventitré o inizio duemila ventiquattro ehm sarà un bando con contratti sempre a tempo determinato della durata di due eh anni. Quindi c'è stato già un bando quello per oltre ottomila persone e atteso tra alcuni mesi il nuovo bando per altre ottomila unità con contratti a tempo determinato di ulteriori due anni. A meno che poi non ci siano non ci siano delle novità hm non si riesca hm realmente a modificare questa norma. Ma chiedetelo ai politici. Io su questo ehm vi devo essere sincero ho degli elementi che mi inducono ad essere ad essere scettico però insomma se se lo cambiano a me francamente non non cambia assolutamente eh nulla. Poi in questa norma se la volete andare a leggere ci sono eh altre indicazioni su altri eh contingenti di ehm assunzione che erano previste. Io comunque eh ho lasciato all'interno di questo documento un po' distrarci per chi volesse poi eh andare a eh leggere con più dettaglio le previsioni che eh si insomma che sono contemplate in questo articolo. E esecuzione esterna? Altra domanda che mi è stata mi è stata fatta da eh un po' di eh di persone. In modo particolare quando mi chiedevano eh ehm in merito al bando da settecentonovantuno posti del Ministero della Giustizia che io dove l'ho aperto qui bando di concorso lo apriamo. Allora vi dicevo non avevo letto la la parte in premessa devo dire che in questo caso tra i vari eh articoli che sono richiamati si dice visto in particolare l'articolo diciassette comma due del decreto legge trent'aprile del duemilaventidue il numero trentasei sempre che questo decreto legge che è un decreto insomma importante si dice convertito con modificazioni dalla legge ventinove gennaio duemilaventidue duemilaventidue nel numero sottantanove ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia prevede un aumento della dotazione organica di millenomantadue eh unità. Eh poi si dice in visto eh l'articolo quattro sempre convertito in modificazioni che secondo quanto disposto il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato millenomantadue unità di personale amministrativo non dirigenziale di cui ottocentonovantacinque all'area terza mediante l'espletamento di procedure concorso. Quindi vengono richiamati questi due ehm articoli del eh decreto legge trentaprile duemilaventidue il numero trentasei questo mi fa pensare che effettivamente il bando di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse per settecentonovantuno posti del Ministero della Giustizia rientri proprio in questo eh discorso della esecuzione penale esterna. Quindi a chi me lo chiedeva che mi chiedeva insomma conforto di questa cosa leggendo è è probabile che quel bando da settecentonovantuno rientri proprio nel contingente di posti che il Ministero della Giustizia è stato autorizzato ad ehm ad assumere. Vi do anche il dettaglio di questo articolo sempre di questo decreto che vi dicevo è davvero importante quindi leggetelo perché a molti poi è passato un po' eh passato un po' in soldina eh dove si dice nell'articolo diciassette misure di potenziamento dell'esecuzione personale eh penale esterna e e rideterminazione dalla dotazione organica dall'amministrazione per la giustizia minorile e di comunica e di comunica comunità nonché l'autorizzazione autorizzazione all'assunzione. Ecco ci sono poi un po' di dati nello specifico su sui contingenti da assumere per chi insomma voglia dargli eh un'occhiata un po' più nel dettaglio io lo lascio qui. Allora qui ho fatto un po' una sintesi rapida di di un po' di notizie che mi hanno consentito di rispondere a varie domande che mi erano state poste nelle nelle precedenti ehm eh giornate nelle due precedenti settimane a cui non avevo fatto in tempo a rispondere in modo compiuto e e spero che adesso di aver chiarito un po' di aspetti. Eh dottor Bianchini ci sono delle domande specifiche che sono pervenute? Sì abbiamo delle domande allora. Sulla salute? Ah no non c'è nulla sulla salute della dottore Sargelli non gliel'importa nulla ai partecipanti? No a nessuno importa. A nessuno importa. E dottore Sargelli è lontan dagli occhi e lontano al cuore. Lei ha sbagliato non partecipare oggi. Prego mi dica. Eccoci allora ci chiedono se il concorso delle agenzie delle entrate per 1600 funzionari uscirà nel 2024 o nel 2023? Beh non non penso che a questo punto facciano in tempo a farlo uscire nel 2023. Nel 2023 uscirà quello per 2500 posti. Poi dopo la conclusione di quel concorso uscirà quello della per gli altri e gli ulteriori 1600 posti. Quindi adesso dubito fortemente che ce la faccia. Diciamo che per il 2023 nei prossimi mesi in primavera è previsto il nuovo bando quello da 2500 posti che verosimilmente sarà integrato anche di qualche ulteriore posto o 100 200 300 posti poi si vedrà in base anche eh ai ai diciamo ai eventuali posti vacanti del precedente bando e poi poi dopo la conclusione di 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 del bando per 2500 posti circa si procederà con il nuovo bando. Però per completare il bando che uscirà in primavera andranno via comunque alcuni mesi. La procedura sarà molto più snella rispetto al passato quantomeno queste sono le previsioni che possa essere molto più snella che tutto si possa completare nell'arco di pochi mesi. Ma ehm comunque alcuni mesi insomma il bando deve essere ancora pubblicato e poi bisogna dare eh un minimo di tempo all'agenzia per organizzare le prove e tutto quanto eh poi ci deve essere comunque la prova orale però insomma prima di fine anno eh per fine anno è verosimile che possano completare la procedura. Poi dopo le assunzioni quindi a inizio anno inizio 2024 dopo aver completato le assunzioni si procederà con il nuovo bando. Poi? Allora ci saranno nuovi concorsi agenzia delle doganne dei monopoli nel 2024? È probabile quantomeno eh considerando le dichiarazioni del dell'ex direttore dell'agenzia delle dogane è probabile che ci siano insomma nuovi nuovi bandi era previsto che per due o tre anni insomma ci potessero essere vari vari bandi. Eh intanto devono completare i bandi in essere. Poi alla fine dei dei bandi che stanno ehm di cui ancora si attende credo la data per lo svolgimento delle prove scritte e poi ci saranno le prove orali eccetera. Quindi poi alla fine di questi bandi mh ehm che è possibile che vengano completati eh nel nel corso del 2023 poi nel 2024 ci sarà una riconnuzione dei eh posti vacanti anche sulla base dei pensionamenti che ci sono stati eventuali trasferimenti eccetera e si procederà poi con i nuovi bandi. Prego. Ci sono novità sul comunicato oltre alla prova orale del concorso MIUR? No. Cioè quantomeno io non ne ho. Vi devo essere sincero io al momento non ho ulteriori novità. Ok allora si sa quando saranno svolte le prove del concorso Regione Calabria per 80 amministrativi organizzati da Formats? No dovete attendere ancora un po'. Al momento ancora non non sappiamo bene. Poi? Allora poi per uscita dalla gradatoria dei profili RIPAM eh amministrativi ed eco come mai i tempi sono così lunghi? Ci sono novità sulla pubblicazione delle stesse? Eh perché ci sono stati molti eh pare ci siano stati molti ricorsi in uno dei precedenti webinar vi dicevo se andate proprio sulla pagina del dipartimento vediamo se riesco a mostrarvela eh sulla pagina del dipartimento della funzione pubblica sono sono pervenuti su varie procedure Formats eh vari vari ricorsi. lo trovate proprio così come dipartimento della funzione pubblica come atti di notifica e vedete che eh ad esempio continuano ancora ad esserci una serie di di ricorsi c'è questo avviso per pubblici proclami ricorso gentile a eh oppure ricorso valenti eh vedete questi già 30 gennaio oggi cos'è insomma di due giorni fa quindi ci sono proprio tanti ricorsi che sono pergiunti adesso bisogna vedere nel dettaglio a quale procedura facciano facciano insomma riferimento quindi anche questa situazione insomma sta un po' rendendo più più lunghi i tempi per la pubblicazione delle regole autonome. Quindi chi voglia dare un'occhiata andate proprio eh sul sito del dipartimento della funzione pubblica atti di notifica. Ok? Poi? Allora ci chiedono eh riguardo alle eventuali date per lo svolgimento del concorso ACI e centro per l'impiego della regione Lazio vi sono novità? No per nessuno di entrambi per la regione Lazio ma in modo così molto molto informale mi hanno detto dovrebbero eh dovreste avere delle comunicazioni nell'arco di poche settimane. Di ACI non so nulla. Quindi non so proprio di che nulla di ACI. E invece per il concorso ASMEL 2023 del Comune di Napoli? Per il concorso ASMEL del Comune di Napoli? Sì. Eh che non so che concorso è il concorso ASMEL del Comune di Napoli. Forse FORNES del Comune di Napoli. non so di un concorso ASMEL del Comune di Napoli francamente. O probabilmente intendono il concorso, il nuovo concorso della regione Campania forse. Allora pare che stiano ancora ricependo le richieste di aderire al progetto che ha lanciato De Luca. Mi è stato detto così. È ancora in corso questa procedura che poi è fondamentale per capire quanti posti metterà a bando. Allora poi ci chiedono in merito alla questione dei concorsi che diminuiranno. È riferito all'anno prossimo o al 2023? No, no. È già in corso la tendenza. Cioè i concorsi ci saranno. Non è che diminuiranno, almeno per il momento. Però si sta cercando di dare un po' più di peso a profili tecnici rispetto ai profili amministrativi. Quindi continueranno ad esserci concorsi per i profili amministrativi. Però la tendenza è anche un po' questa. Considerate che, ad esempio, già l'Inps, nell'arco di quattro anni circa, solo di profili amministrativi, con il precedente concorso, i precedenti due profili di concorso, dove alla fine sono state assunte quasi 4.000 persone, altre 4.000 verranno assunte ad aprile. e in più poi ci sarebbe la possibilità, entro il corso dell'anno, di assumere alcune centinaia di ulteriori persone. Aspettano l'autorizzazione da parte del governo in merito e è stata richiesta un'autorizzazione di assunzione di ulteriori 700-800 unità. Quindi, considerando anche queste procedure, solamente l'Inps di personale amministrativo, lasciamo stare, insomma, altri profili, ha già assunto, entro la fine di quest'anno, ha già assunto oltre 8.000 dipendenti nuovi. E il personale amministrativo dell'Inps, credo sia intorno alle 23-24.000 unità. Cioè, come dire, ha rinnovato praticamente un terzo dei dipendenti. È normale che poi, in prospettiva, nei prossimi anni, non potrà continuare ad andare avanti con questi ritmi. Altrimenti, nell'arco di 12-15 anni, avrebbe rinnovato interamente tutto il parco dipendenti che è al suo attivo, rispetto ad un turnover che, generalmente, in media, è di una trentina d'anni. Quindi, le assunzioni massive di amministrativi che ci sono state negli ultimi due anni, diciamo 2022-2023, non potranno andare avanti con questi ritmi per molto. Già nel corso di quest'anno un po' di flessioni è verosimile che ci siano e questo per tanti motivi. La riforma delle pensioni, questa sorta di redistribuzione delle unità in cui si sta dando un po' più di spazio a profili specialistici, profili tecnici, eccetera. Insomma, ci sono varie motivazioni che lo giustificano. Quindi concorsi ci saranno. Anche per i profili amministrativi, però la tendenza è ad una riduzione del numero delle assunzioni. Il nuovo bando IMS, che dovrebbe esserci per funzionari, nuovo bando IMS per funzionari, che è previsto, che probabilmente ci sarà nel 2024, come nuovo bando, già avrà verosimilmente numeri decisamente più contenuti rispetto al bando che hanno concluso qualche settimana fa. Poi ci chiedono se ci sono novità sulla presa di servizi dei CPS e IMS. Allora, per i consulenti della protezione sociale, da quanto mi è stato detto negli ultimi giorni, pare che l'Istituto stia anche attendendo un po' l'esito dei ricorsi prima di pubblicare la grelatoria, quella definitiva. Ancora non c'è la grelatoria definitiva, c'è la grelatoria provvisoria. Attenere l'esito dei ricorsi significa che è possibile che la grelatoria venga pubblicata poi a febbraio e se la grelatoria viene pubblicata a febbraio, la presa in servizio ci sarà non prima di fine marzo. Quindi fine marzo inizia aprile. Diciamo al momento questa è l'ipotesi più verosimile, più attendibile, però attendiamo poi le dichiarazioni ufficiali degli organismi competenti. Poi? Secondo lei, perché non è ancora uscita la grelatoria IPAM-ECO? E l'ho detto prima, non è ancora uscita, pare che ci siano dei problemi anche in virtù dei ricorsi a cui facevo riferimento prima, che trovate e cercateli sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica alla voce atti di notifica. Ce ne sono tanti, stanno ancora arrivando anche negli ultimi giorni, ci sono tanti ricorsi che stanno per me neanche. Poi? Quali materie si devono studiare per il concorso? Diplomati o IMS? Non lo sappiamo, dobbiamo attendere, cioè non vi so dire, certamente ci sarà diritto amministrativo, inglese, informatica, le materie che ci sono in tutti i concorsi, quelle ve le dovete aspettare. Quali sono le altre materie? Tipo, ci sarà diritto del lavoro, non ci sarà, ci sarà previdenza sociale, non ci sarà, cioè per queste informazioni di dettaglio, ad oggi non le abbiamo. Quindi bisogna attendere. Bisogna attendere. B3 potrebbe andare oltre marzo? Le voci, però attenzione, si parla di voci, dicono che dovrebbero attivare le prove, sia il B3 che i profili C che non sono stati espletati, dovrebbero attivare le prove tra febbraio e marzo. Al momento sono voci, quindi non ho un documento ufficiale da mostrarvi. Vediamo se poi sarà così o meno. Poi, quando potrebbero espletarsi e le troverà le comuni di Napoli, i profili AM, M, C e D? Ma quelle pian piano stanno andando, aspettatevele a breve distanza dalle prove che sono state già comunicate. Pian piano, in base anche alle disponibilità della commissione, diciamo che non aspettatevele alle calende grieche. Andate a vedere i propri calendari che sono stati già pubblicati e a margine è verosimile che saranno pubblicate le prove orali, le date delle prove orali e anche degli altri profili che ancora non sono stati messi a calendario. Allora, poi ci chiedono se sono previsti altri concorsi per prefettura ed inoltre per la preparazione alla prova preselettiva SNA e se consiglia di fiondarsi su manuali di preparazione per le prove scritte o di acquistare i manuali predisposti per la preselettiva o ancora di fare quiz sulle varie applicazioni. Allora, per la prefettura che io sappia, nel corso di quest'anno a me non risulta che siano in previsione i nuovi concorsi ma può anche darsi che non sia informato io che non sia aggiornato io. però a me non risulta che siano in progetto ulteriori bandi proprio nel corso del 2023. Anche perché devono ancora completare la vecchia procedura, quella da 200 posti, devono attivare, cioè devono avviare la prova preselettiva della procedura da 180 posti quindi al momento a me non risulta che sia stiano pensando la nuova procedura da pubblicare già quest'anno. Certamente un nuovo bando ci sarà se non ce la fanno nel corso di quest'anno come è possibile e probabile insomma nel corso del 2024. Credo che dovrete aspettare vari mesi prima del nuovo bando della prefettura. Comunque sì, al momento non ho proprio indicazioni ufficiali. Quindi ve lo dico anche sulla base della situazione analizzando i dati con due procedure in corso già pubblicate che pubblichino una terza procedura in concomitanza mi sembra del tutto del tutto improbabile. Poi appena completeranno la procedura da 200 e nel frattempo avranno avviato anche quella da 180 quindi tra alcuni mesi tra vari mesi poi prima o poi insomma questo nuovo bando ci sarà ma secondo me io me l'aspetterò nel 2024 non nel 2023. Per SNA in merito a SNA io come corso ne ho attivato uno e lo trovate se andate sul mio sito internet che è www.metodolocotruvo.com ripeto www.metodolocotruvo.com e credo ci siano ancora una ventina di posti disponibili 20-25 posti disponibili per partecipare eventualmente al corso. Al di là di questo dirvi se vi possa bastare un volume noi come casa editrice abbiamo predisposto un volume vediamo se riesco a beccarlo e ve lo mostro Maggioli editore ed è un volume dedicato ai quiz cioè in cui mostriamo un esempio una carrellata di quiz che potrebbero che potrebbero capitare nel concorso con le soluzioni commentate il volume è questo si chiama concorso 352 allievi dirigenti SNA quiz commentati per prova presenettiva e prove scritte quindi ci sono un po' di domande con poi il commento alle domande che insomma sono commenti che vi danno una serie di spunti per poi approfondire la preparazione un manuale proprio con tutte le materie al momento non lo abbiamo non lo abbiamo realizzato e quindi su quello se vi serve anche uno manuale da studiare insomma poi valutatelo voi se acquistare singoli compendi o meno vi basta solamente un volume vi può bastare solamente esercitarvi su applicazioni varie beh quello dipende dalla vostra preparazione se non avete mai studiato queste materie insomma esercitarvi con un po' di quiz e basta rischia di essere un esercizio un esercizio sterile non avendo poi i contributi del di spiegazioni che vi facciano anche capire come le domande possono essere impostate considerate anche che quello che è successo in alcuni degli ultimi concorsi per lo dico proprio in merito persone che si sono esercitate solamente con magari simulatori o cose di questo tipo e che poi magari si sono ritrovate con domande anche molto diverse rispetto in alcuni casi le domande erano simili in varie altre situazioni le domande erano molto diverse per questo dico l'esercizio potrebbe essere del tutto sterile io quello che consiglio comunque partite dalla vostra preparazione e solo voi potete io non sapendo chi mi ha formulato la domanda se è una persona che ha già studiato ad esempio per il precedente bando che ha già una formazione robusta magari gli può essere utile anche o sufficiente solamente esercitarsi con un po' di materiale un po' di quiz eccetera e nel frattempo studiare già per le prove scritte per persone che invece non hanno questa formazione pregressa e l'esercizio così fatto è assolutamente sterile gli può essere utile un volume può bastare un volume tipo un volume solamente con i quiz come questo potrebbe bastare se affiancato poi comunque andatevi diciamo allo studio proprio alla lettura alla schematizzazione dalle norme principali su cui vertono le domande della prova le domande di ragionamento logico diritto costituzionale diritto amministrativo diritto unione europea economia politica politica economica management pubblico e innovazione digitale economia delle amministrazioni pubbliche analisi politiche pubbliche quiz situazionali e lingua inglese quindi vedete sono tante le materie quindi dicevo per questi argomenti tranne ovviamente per la lingua inglese cercate di eventualmente se avete poco tempo sicuramente di può essere utile un volume come questo che vi sto mostrando però affiancatelo anche alla alla proprio lettura dalle norme su cui vedrete verteranno i quiz che sono contemplati in questo in questo volume quantomeno per cercare nell'arco di due tre mesi quattro mesi di tempo di avere un'infarinatura per giocartela almeno per la presa a lezione considerando che molte di queste materie sono anche abbastanza consistenti cioè non è una preparazione che da zero si può acquisire nell'arco di poche settimane però quantomeno ve la giocate nella ipotesi e diciamo che non sarebbe tempo perso visto che comunque poi per il prossimo anno è previsto un altro bando un altro bando snà è comunque un investimento che fareste in cui iniziate a prepararvi iniziate anche a testarvi in termini di possibilità di superamento della prova iniziate a valutare quali sono le lacune che avete se vi basta se vi dovesse bastare la preparazione poi dicimenterete anche con le prove scritte altrimenti poi comunque lo studio effettuato lo sfrutterete per il prossimo bando per il prossimo bando snà se vi possa essere utile un corso di formazione tipo il mio quello ripeto dipende sempre da voi dalla vostra preparazione io non certamente per chi è già molto preparato direi di no insomma spendereste soldi inutilmente per chi invece ha delle maggiori lacune nel mio corso io darò spazio principalmente al ragionamento logico e ai quiz situazionali quindi lo dico non ci sarebbe il tempo in poche settimane di trattare poi nel dettaglio anche il diritto costituzionale amministrativo eccetera diciamo che nelle altre materie vi darò delle indicazioni anche proprio sull'approccio da adottare con i quiz di diritto con i quiz di economia a volte ci sono delle tecniche delle strategie per diciamo a livello internazionale si parla di tecniche di massimizzazione dei punteggi sono tecniche che vi possono aiutare anche a dare una sola risposta in più che potrebbe essere poi quella che fa la differenza tra chi supera la prova e chi non la supera però l'attenzione principale che io darò ovviamente anche perché sono quelle le mie competenze insomma non vado oltre sono sul ragionamento logico e sono sui quiz situazionali fare dei moduli anche sulle singole materie considerando che sono proprio tante e visto che insomma è possibile che la prova la svolgiate già tra maggio e giugno la prova preselettiva non ci sarebbe stato proprio il tempo di organizzare nulla di più di più specifico non so se altri hanno organizzato qualcosa di specifico insomma provate a chiedere ad altri se vi convengo meno dipende da voi da quanto è forte la vostra preparazione può darci qualche informazione sulla tipologia di quiz di logica previsto nella prima prova 113 funzionari regione calabria e se a tal proposito ha qualche corso da consigliare allora corxi no perché non sono riuscito a strutturare un corso insomma è un periodo con molte attività anche scolastiche al di là dei concorsi quindi non ho avuto modo di preparare null'altro di specifico al momento come tipologia di quiz se andate sul sito del ripanform io direi iniziate a vedere un po' di domande che hanno assegnato siccome il form si è pubblicato di alcuni dei precedenti bandi anche le prove che sono state assegnate e in alcune di queste prove troverete dei quiz di logica quindi iniziate da da lì per avere un'idea di che tipo di domande abbiano assegnato vediamo se ho qualcosa di specifico troverete alcune domande che sono molto semplici però ad esempio uno degli ultimi bandi di cui si è occupato il form cioè quello del comune di Napoli come domande assegnate ce ne sono di domande particolarmente particolarmente difficili quantomeno ed erano tutte quante domande da fare senza carta e penna quindi su quello poi io ad oggi non vi so dire se andranno su un taglio su una tipologia di domande più impegnative o se andranno su domande più semplici quello poi dipende dalle indicazioni che ha fornito l'amministrazione al form e se dipende dal modo in cui il form deciderà di gestire la prova e sono come dire accordi che non conosco e quindi sui quali non posso esprimerli per avere proprio un'idea di domande ufficiali andate a vedere le prove che hanno assegnato negli ultimi concorsi vediamo che se ho qualcosa di specifico vediamo 2022 che c'ho no non c'ho nulla prove del 2021 tipo il concorso per 2293 queste sono prove che trovate tutte quante sul sito ripanformers vedete c'erano anche domande di logica figurale tanto per mostrarvene una la prima che è uscita domande su che ne so sul ragionamento verbale sulle relazioni di ordine grandezza quindi domande in cui bisogna saper disporre le informazioni Parigi più a est di Lione Tolosa più a est di Parigi eccetera però oltre a queste ci sono stati dei concorsi dove hanno dato anche domande di logica matematica anche quella se vogliamo anche nei bandi quando mi dite nel bando non c'era scritto logica matematica c'era scritto logica deduttiva in realtà anche la logica matematica c'è logica deduttiva è una dizione nella quale può confluire tutto la logica è deduzione altrimenti non sarebbe non sarebbe logica sarebbe matematica non so se sono chiaro quindi quando nel bando scrivono chiedo scusa quando nel bando scrivono logica deduttiva possono fare riferimento a tutto proprio perché è una dizione troppo troppo ampia troppo vasta potrebbe abbracciare in senso in senso ampio tante tipologie di domande di domande differenti chiudo dicendo il consiglio migliore che vi posso darvi iniziate a dare uno sguardo a un po' di domande che sono state assegnate negli ultimi concorsi e le prove le trovate spesso proprio alcune le trovate proprio direttamente sul sito di Panform se dovete scorgere un po' andate nella sezione notizie scorgate un po' e troverete poi dopo vari diciamo vari link troverete anche link con la pubblicazione delle prove assegnate in alcune delle ultime prove qualche altra prova poi magari la troverete anche in qualche gruppo social dove alcuni candidati hanno messo a disposizione le prove che hanno condiviso le prove che hanno sostenuto negli ultimissimi batti prego per i 104 funzionari giuridico pedagogico non essendo prevista prova preselettiva con un numero di domande elevatissimo come fanno a scremare? direttamente con la prova scritta quiz che a quel punto funge anche è prova concorsuale ma funge anche la prova preselettiva non è un problema è stato già fatto anche da altre amministrazioni ok ci sono novità invece per il concorso dell'università del Salento 5 posti personale amministrativo non lo sto seguendo quindi non saprei dire in quei casi andate direttamente sul sito dell'università generalmente pubblicano le informazioni proprio nella pagina dedicata al concorso se non c'è nessuna informazione lì è difficile che altri vi possano dare delle indicazioni più precise e aggiornate allora poi ci chiedono se ci sono info per il prossimo concorso Regione Piemonte che uscirà entro il 2023 e io adesso non so se si fa riferimento a questo alla notizia che vi ho dato prima dove si diceva in merito proprio alla Formez veniva indicato anche Regione Piemonte adesso non so se questo è un concorso che è stato già bandito o è quello che deve essere ancora bandito le cinquantotto unità vediamo un po' Regione Piemonte altrimenti se è un altro Regione Piemonte concorsi se è un altro profilo procedure in atto vediamo un po' cosa dicono perché a memoria guardate ci sono così tanti bandi che stare dietro a tutti quanti sta diventando veramente un'impresa quindi a meno che non ci siano stati lavori anche di redazione allora dovete trovare le notizie relative alle procedure sono disponibili a questo link andiamo a questo link quindi c'è notizia su uno stage all'ufficio di Bruxelles bando di mobilità volontaria per dirigenti bando di mobilità concorso per personale a tempo indeterminato vediamo a tempo indeterminato quanti posti sono procedura bando 206 concorso per chiedere esami numero di posti uno va bene era solo uno poi c'è concorso per presunzione a tempo indeterminato bando 200 però questo è per le categorie protette che dicono che sono già pervenute 118 domande concorso quindi un po' di bandi ci sono adesso non vi so dire se ci saranno altri bandi però visto quello che è accaduto ultimamente la regione Piemonte si sta spesso avvalendo del FORMES per la gestione dei profili concorsuali come in questo per 58 unità di personale a tempo pieno indeterminato di categoria CD immagino che avevo sentito parlare anche di ulteriori bandi non vi so dire esattamente quando quando ci saranno nel corso dell'anno è verosimile che ci siano diciamo che su alcuni bandi grandi bandi di amministrazioni anche locali o di enti territoriali come le regioni proverò ad aggiornarvi nei prossimi due webinar perché l'altro bando ad esempio che molti mi chiedono è quello del Comune di Roma per la polizia locale che doveva già essere pubblicato lo scorso anno e poi ci sono ci sono state c'è stato un orientamento dell'amministrazione a slittare la pubblicazione del bando nel 2023 e quindi tra non molto insomma è atteso anche questo bando con numeri importanti si parla di un bando per 500 posti per agenti di polizia locale da cui poi probabilmente comunque ci saranno scorrimenti di creditoria e nell'arco di due o tre anni dovrebbero essere assunte anche molto più di 500 persone che è un altro bando diciamo molto molto atteso quindi di questi bandi compreso poi anche la regione Campania di cui molti mi chiedono però al momento non ho indicazioni specifiche sicuramente avremo modo di parlarne e di confrontarci nei prossimi nei prossimi webinar e probabilmente nell'arco del mese di febbraio avremo indicazioni più precise compreso regione Piemonte adesso mi prendo anche un appunto in modo tale da provare a cercare ulteriori indicazioni prego dottor Bianchini eccomi mi scusi allora ci sono notizie circa di me no dicevo mi stavo abbandonando ho detto dopo l'argelli anche Bianchini mi abbandono prego prego io ancora ancora ci sono allora notizie circa il concorso agenzia delle entrate funzionali tributari e a breve o medio termine oppure per la presa elettiva se ci sono notizie no no per la presa elettiva non abbiamo non abbiamo idea se ci sarà o meno presa elettiva io quello che ho detto forse sono stato anche il primo a parlarne insomma c'è la possibilità che ci sia una presa elettiva per titoli però prima di avere delle indicazioni precise insomma ci vorrà del tempo nel corso del webinar prima insomma facevo riferimento anche al fatto che c'era chi mi diceva ma è legale la normativa ehm vigente lo consentirebbe una presa elettiva per titoli beh dipende da come sarà proprio impostato il bando da come saranno ehm contemplate e commentate i commentati i profili messi a bando insomma c'è la possibilità che la norma non non preclude la possibilità di una presa elettiva per titoli nel caso in cui si faccia riferimento nel bando a profili con diciamo specialistici è un profilo da funzionario tributario non è un profilo qualunque di un qualunque funzionario amministrativo inizia già a essere un profilo un po' più specializzato un po' più specialistico quindi io non escluderei francamente secondo me la normativa potrebbe consentire all'agenzia anche di procedere in questa direzione quindi la voce che ehm ci possa essere una presa lezione per titoli ehm credo che possa essere una voce fondata però per avere indicazioni precise dobbiamo attendere eh sicuramente varie settimane forse lo sapremo solamente con la pubblicazione del bando ehm per altre per altre informazioni su quanto si debba attendere per il bando l'ho detto già varie varie volte il bando dovete attendervelo in primavera pare che l'orientamento sia quello a eh aspettare la conclusione del bando ehm in svolgimento ci sono alcune regioni dove stanno ancora completando le prove orali in alcune le hanno completate in altre devono completare le prove orali in modo tale poi da eh poter appogli e eventuali posti vacanti del precedente bando poterli inserire anche nell'ambito della previsione di assunzioni del nuovo bando e ehm e niente quindi da quanto insomma da quanto mi risulta c'è questa situazione poi sembra che ci siano anche delle ehm delle procedure di mobilità interna ehm che sono in corso di avviamento sono state avviate insomma a breve saranno avviate a breve ehm e anche questo è importante per poi determinare anche meglio il il la distribuzione delle delle nuove assunzioni che eh sono previste quindi ehm dovete attendere ancora un po' di settimane non passerà tantissimo tempo considerate siamo già ormai a febbraio la primavera non è che eh visti tanto eh tra tra aprile maggio se non addirittura inizio giugno però tra diciamo aprile giugno ci sarà la pubblicazione del bando però il problema alle persone che lo dico e me lo stanno chiedendo spesso il problema è che poi ehm considerate dalla pubblicazione del bando allo svolgimento delle prove passerà poco tempo quindi se decidete di puntare su un concorso come l'agenzia delle entrate comunque sia dovete iniziare non aspettate del bando perché poi altrimenti rischiate di arrivare al concorso con una preparazione debole di non riuscire a superare le prove quindi se puntate a questo concorso non aspettate il bando studiato poi che esca a fine marzo o inizio aprile o maggio non è la settimana in più o la settimana in meno che farà la differenza e adesso che comunque non potete permettervi già già adesso potrebbe iniziare ad essere tardi per avviare una preparazione degna a meno che non abbiate già studiato in passato non abbiate già una formazione perché resta altrimenti soprattutto perché deve iniziare da zero la preparazione inizia già a essere tardi perché le materie a bando sono materie corpose poi allora poi ci chiedono se secondo lei per il concorso IMS che è avvenuto recentemente ci chiedono quanti secondo lei saranno dei 4082 posti da assumere per il sud ed inoltre gli altri successivi non lo sappiamo fra l'altro sono in corso anche delle procedure di mobilità di mobilità interna e poi all'atto di queste procedure si capirà meglio anche quanti posti insomma ci sono nelle singole regioni ad esempio per la Puglia dove si parlava di circa 300 posti da assumere mi dicevano che poi all'atto delle procedure di mobilità è possibile che questa previsione insomma sia ridotta a 250 260 posti cioè ci sono una serie di altre procedure interne che incideranno poi sulla distribuzione dei posti e tra alcune settimane sapremo meglio adesso dire esattamente quanti saranno i posti per il sud è davvero complesso rispondere allora invece se ci sono novità per il concorso ATECON come assistente informatico e quello da 60 ancora no sì ho capito quello da 60 posti ancora no è uno di quei concorsi che insomma non perderanno però dirvi se lo pubblicano tra una settimana o tra un mese francamente al momento non lo so generalmente l'agenzia delle entrate comunica queste cose anche con anticipo perché era presente anche quel concorso nella previsione di bandi da pubblicare entro la fine del 2022 e non è stato pubblicato però questo insomma non mancherà tanto e dirvi esattamente quando ancora oggi non ve lo so dire però non mancherà tanto la pubblicazione di quel banco non manca tanto la pubblicazione di quel banco poi allora ci chiedono quindi per 791 posti del ministero giustizia se fanno parte dell'esecuzione esterna vuol dire che gli 890 posti laureati sono quasi tutti occupati e non ci sarà altro? è possibile intanto nel bando non c'era una previsione per 890 può anche darsi che insomma nei posti messi a bando ci sia una previsione minore e poi gli altri posti si procederà per il scorrimento di creditoria o magari c'è la possibilità che uno dei profili non sia stato ancora bandito e ci siano ancora quei 100 150 posti che devono essere ancora banditi purtroppo questo al momento non ve lo so dire perché non ho altre informazioni oltre i documenti che vi ho mostrato non abbiamo altre domande e si è ringraziato il signore alleluia alleluia lei d'accordo? va bene intanto abbiamo fatto anche oggi oltre le 12 quindi credo che sia arrivato il momento di salutare amici e compagni d'avventura ringraziando per l'attenzione e rinnovando l'appuntamento abbiamo l'appuntamento mercoledì prossimo Albert allora sì 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 allora lascio lascio a lei l'incombenza di ci osare questo nuovo web benissimo ovviamente anch'io ringrazio tutti i partecipanti per aver seguito questo appuntamento della casetta concorsi come ci ha detto il prossimo sarà l'8 febbraio mercoledì prossimo e nulla vi ricordo che come sempre questo appuntamento è stato registrato e dopo una breve fase di lavorazione sarà reso disponibile sulla nostra piattaforma youtube di Maggiore Editore e ci verrete anche una mail con il link appena sarà disponibile io vi ringrazio ancora una volta ringrazio anche lei professore e auguro a tutti quanti un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti